Doppio progetto portato a termine per il Rotary Club Gubbio per due iniziative pensate e coltivate sin dall'inizio dell'anno sociale. Il primo, di carattere strettamente solidale, rivolto ad alcune famiglie in difficoltà della comunità eugubina, individuate grazie al supporto di Caritas, tradotto nella consegna di un buon numero di prepagati usufruibili in un noto supermercato cittadino, iniziativa impreziosita dalla generosità del direttore dello stesso supermarket che con un ulteriore contributo ha permesso di allargare i nuclei familiari a cui è destinato l'aiuto. Il secondo, invece, è il progetto Reboot, che grazie al contributo del Rotaract ha visto rigenerare e donare quattro PC sempre alla Caritas. La consegna è avvenuta al Parco Telecappuccini, presenti il presidente Rotary Gubbio, Gioacchino Minelli, la segretaria Lucia Bellucci, i consiglieri Stefano Pierotti e Massimo Bastiani, il tesoriere Roberto Tanganelli, il direttore della Caritas diocesana di Gubbio, Luca Uccellani e madre Dorotea Mangiapane per la casa famiglia Santa Lucia. Ci siamo rivolti sicuramente alla Caritas nella persona di Luca Uccellani che ci ha indicato qual era il modo migliore per poter aiutare questa situazione molto difficile e con grande soddisfazione siamo riusciti a mettere insieme delle carte prepagate dell'Eurospin che verranno poi tramite la Caritas assegnate a queste famiglie. Ma quello che è stato molto interessante alla fine è l'atto generoso del presidente dell'Eurospin che ci ha donato altre 10 carte oltre alle 40 che abbiamo già acquistato e questo a maggior ragione ci ha consentito di aumentare anche il numero di famiglie che naturalmente riceveranno questo tipo di aiuto. L'altro aspetto invece è un progetto particolarmente caro anche al nostro distretto e si chiama il progetto Reboot che con la grande collaborazione del Rotaract è riuscito a mettere insieme tantissimi personal computer che in teoria avrebbero dovuto sembrare fatiscenti e non più utilizzabili ma in realtà ci ha consentito di rigenerare questi computer e dotandoli naturalmente di nuova tastiera, nuovo mouse e altre piccole apparecchiature e di poterli rimettere in circolo. Quindi a questo punto abbiamo avuto la possibilità di donare alla Caritas quattro computer che sicuramente Luca saprà a chi assegnare in maniera opportuna.